La leadership è la capacità di trasformare le idee in realtà. La leadership è la capacità di trasformare le idee in realtà. La leadership è la capacità di trasformare le idee in realtà. La leadership è la capacità di trasformare le idee in realtà. La leadership è la capacità di trasformare le idee in realtà. La leadership è la capacità di trasformare le idee in realtà.